La domenica del villaggio in festa. Nella zona fra Bisignano e Torano Castello una giornata è stata dedicata alla buon umore tra musica, canto, spettacoli e tutta la passione messa in atto dai cittadini del luogo. Così sono state tante le attrattive per il pubblico che sia al chiuso nonché negli spazi all'aperto hanno passato dei momenti di spensieratezza, un po' quelli che soprattutto con i ritmi frenetici di tutti i giorni si fa spesso fatica a ritrovare. Il merito dei ragazzi del villaggio con la collaborazione della Proloco e dell'amministrazione comunale di Bisignano è stato senza dubbio quello di fare del villaggio stesso un luogo di tranquillità e spensieratezza mixando i vari ingredienti per ottenere un'intera giornata di divertimento. E così la grande collaborazione reciproca ha permesso alla domenica del villaggio di diventare un successo che sarà presto ripetuto mentre il pubblico ha potuto inoltre apprezzare l'organizzazione di primo livello nonché ha ritrovato un bello spazio in comune. Voto 10 e lode proprio a tutti gli attori protagonisti.